Dominic Ongwen è ally, al capo militare dei ribelli ugandesi, sarà processato per crimini di guerra e contro l'umanità dal Tribunale Penale Internazionale. Ongwen, comandante del Lords Resistance Army, ricercato dal 2011, si sarebbe consegnato alle milizie selecane la Repubblica Centroafricana all'inizio dell'anno ed è stato poi affidato alla custodia statunitense nel paese. L'Uganda ha dato l'ok per il processo con la cattura di Ongwen, resta solo il leader Joseph Kony in fuga. Il gruppo ribelle attivo dall'87 è accusato di massacri, sequestri e mutilazioni, oltre all'utilizzo di bambini soldato e schiavi.